Buonasera, ci occuperemo oggi del Nine Nights 2014 dal 30 marzo al 4 di aprile, il grande evento del Freschi torna a riflettere su Livigno e nel mondo perché questo sarà anche e soprattutto un grande evento mediatico. Ne parliamo con il presidente di APT Livigno, buonasera, benvenuto Luca Moretti. Buonasera. E ne parliamo con l'AD di Motolino Marco Rocca, benvenuto anche a Marco. Ciao, buonasera. E responsabile della comunicazione e della logistica di tutto questo grande evento per Motolino, Thomas Confortola. Buonasera. Dicevo un grande evento, uno dei più importanti eventi mediatici del settore, il Fiat Nine Nights che quest'anno non mancherà di stupirci. Sì, assolutamente, ormai è un format provato e riprovato e comunque riconosciuto perché tutti i media e comunque quando ci muoviamo all'estero riconoscono Livigno per questo evento, evento come dicevi tu, assolutamente mediatico, non genera grossi numeri ma genera grossa comunicazione e riesce a darci dei contenuti media importanti. Ecco, chiediamo subito a Marco di spiegarci di che cosa si tratta, poi torneremo su questo aspetto dell'attrattività e invece della forza mediatica. Questo evento in che cosa consiste? Per chi ancora non lo conoscesse, magari tra chi ci sta seguendo. L'evento chiaramente riprende un po' tutte le attività che solitamente si vedono nel park, nello snowpark, quindi è un'attività freestyle, un'attività che oggi abbiamo visto anche ai giochi olimpici di Sochi, quindi se prima era per il popolo di massa così uno sport sconosciuto, oggi certamente il freestyle, che sia sulla tavola, quindi snowboard o friski, diventa uno sport estremamente facile da vedere, facile da riconoscere. è legato al mondo dei giovani, quindi principalmente è difficile vedere un cinquantenne, un sessantenne su una tavola in uno snowpark, mentre per i giovani è certamente più facile. Questo evento rappresenta proprio un po' il concetto più estremo del freestyle, quindi sono delle strutture molto grosse, sono degli ostacoli molto molto importanti, tant'è vero che vengono poi svolte queste attività, o la preparazione delle strutture viene fatta al di fuori del park, proprio perché servono delle strutture gigantesche. Gli atleti sono di profilo molto molto alto, sono degli skier a livello internazionale, che quindi cosa fanno? Si dilettano in questi salti, in queste grosse strutture, e fanno degli show che sono assolutamente da vedere, perché sono spettacolo allo stato puro. Sì, Moretti diceva prima, grande evento mediatico che si differenzia da quelli che sono normalmente gli eventi invece attrattivi. E' bene spiegarlo, questo perché spesso e volentieri, almeno nel pensiero comune, l'evento viene organizzato per attrarre, attrarre diciamo pubblico. Questo non significa che il Night Nights non sia un'attrattiva anche per il pubblico, ma nasce con un obiettivo diverso? Esattamente, nasce con l'obiettivo diverso quello di comunicare questa specialità, questa particolarità, e di far uscire insieme a questo evento così di forte impatto mediatico anche la località, e riuscire così a delineare quelle che potrebbe essere o che è l'identità di Livigno e dove vuole andare Livigno. Quindi uno, vedendo questo evento, vedendo queste evoluzioni di questi freerider, tra l'altro, come diceva Marco, non le possono far tutti, dà effettivamente quello che è il market di Livigno. Bisogna distinguere quello che sono i mass market, o comunque quelli che possono essere gli eventi mass market, quindi a partecipazione, quelli che sono gli eventi mediatici. Un esempio su tutti potrebbe essere la Sgambeda o l'Astra Livigno, che sono eventi sì che fanno parlare di Livigno, sì che dicono che a Livigno si possono fare queste attività, ma soprattutto è la partecipazione l'obiettivo di questi eventi. Quindi riuscire ad abbassare i costi, a far parlare di Livigno attraverso la partecipazione dei concorrenti a queste gare. Lato opposto, quindi siamo agli estremi, agli antipodi per i tipi di eventi, è il Nine Nights e questi eventi mediatici. Devono far parlare di Livigno attraverso giornali, attraverso tv, tv straniere, tutto quello che sono i media, i contatti media, e tutti i contenuti che riesce a generare questo evento sono molto importanti. Quindi non si ha una partecipazione, non si va oltre le 100 persone come partecipanti e come staff che ruota, che orbita intorno a questo evento, quindi numeri assolutamente bassissimi, ma che però generano tantissimo di più rispetto a altri eventi. Quindi ecco, questi sono i due tipi di eventi. Paradossalmente quindi si potrebbe dire che l'evento potrebbe essere organizzato anche senza pubblico, non è importante che invissi al pubblico? L'evento nasce come un evento senza pubblico, nasce proprio in una location, in un contesto molto particolare che non necessita di grande, diciamo, comodità dal punto di vista impiantistico. Addirittura loro avrebbero preferito, in teoria l'organizzazione, avrebbe preferito addirittura un contesto completamente al di fuori dalla visuale della gente. Questo perché dal punto di vista fotografico, dal punto di vista degli shooting fotografici, sarebbe ancora meglio poter avere un campo sgombro completamente da gente, da pubblico, appunto. Poi però è troppo affascinante, il pubblico arriva allo stesso. Ma no, chiaramente poi noi uniamo sicuramente, diciamo, l'aspetto di comunicazione, che è un aspetto fondamentale per questo tipo di eventi, anche a un'esigenza locale. Oserei dire, quest'anno organizzeremo proprio anche il mercoledì sera un fotoshooting notturno aperto al pubblico, ma perché poi pensiamo principalmente anche al pubblico olivignasco, anche ai nostri concittadini, che in qualche modo è giusto ed è bello che possano vedere un evento di questo tipo. Non sono atleti, diciamo, che girano quotidianamente nemmeno nel nostro snowpark, perché sono atleti che vengono invitati, sono 9-15 atleti al massimo che vengono invitati da tutto il mondo, ci saranno anche degli atleti olimpionici, anzi, chi ha avuto modo di guardare un po' le Olimpiadi in questi giorni, Livigno è stata citata direi centinaia di volte dallo speaker che ha ricordato proprio Livigno come location di riferimento, come località che ha, diciamo, questa grande attrattiva dello snowpark, quindi del campo gara in cui, diciamo, questi atleti si esercitano. Quindi lo facciamo certamente con lo scopo con cui l'organizzazione, con cui questa organizzazione che si porta dietro al Nine Nights ha pensato all'evento, lo facciamo anche per i locali e a questo punto, insomma, diventa un bel motivo per avere anche un evento mediatico, ma mediatico anche localmente. Localmente. Thomas, obiettivi dell'evento, abbiamo capito, sono principalmente questi, quelli di creare un'azione forte di marketing per comunicare con il mondo, al mondo, questo grande evento. Sono professionisti, naturalmente, i cavalieri, questi nuovi cavalieri che sono invitati, sono tra i più forti al mondo, ma sono professionisti tutti coloro che ruotano attorno a questo evento. Hai lavorato fianco a fianco a loro, credo che sia stata proprio un'esperienza di vita, di crescita professionale e anche personale, no? Sì, no, assolutamente, a livello professionale, credo realmente che sia stata l'esperienza più grande a cui abbiamo potuto partecipare. La grandezza di questa esperienza è proprio fatta dalla persona con cui ti trovi a lavorare durante l'organizzazione dell'evento, a partire dalla costruzione, dove realmente sei a contatto con questi architetti della neve, perché progettano realmente questo castello come se fosse un'abitazione, quindi progetti veramente al millimetro, continuando poi nella fase più avanti, dove insieme ai nostri operai e gattisti cominciano la realizzazione e quando poi si entra nel vivo dell'evento stesso entri a contatto veramente con il non plus ultra di questo settore. L'evento prevede l'invito di cinque fotografi che sono tra i più famosi al mondo del settore, basti citare quello che è sempre venuto e ha vinto anche il contest fotografico che è il caporedattore di Frisky americano, quindi un nome di tutto rispetto che sta lavorando appunto in questi giorni anche a soci. Cinque fotografi di tutto rispetto, una crew cinematografica, mi permetto di chiamarla, perché lavora con strumenti fuori dal normale, telecamere che si vedono sui set di Hollywood da 30.000 passa euro, quindi voglio dire è realmente una crew cinematografica, senza considerare poi tutti appunto le testate web, piuttosto che le testate cartacee, piuttosto che le testate televisive, che vengono a Livigno per l'evento, aumentando quindi la portata dello stesso. Mi viene da aggiungere a tutta questa crew anche gli sponsor di ogni singolo atleta, nel senso che gli atleti più forti che sono venuti negli anni passati hanno portato il proprio filmer, piuttosto che il proprio fotografo, e poco meno di un mese fa abbiamo visto copertine di Tom Wollish, piuttosto che Tanner Hall in Australia o in America, realizzate proprio grazie agli sponsor degli atleti, quindi è tutta una crew, è tutto un gruppo veramente folto che lavora in un'unica direzione, la direzione di creare immagini, di creare video, di creare una grande quantità di contenuti da distribuire poi al settore. È molto importante il web, anzi fondamentale, con cui si diffonde questo messaggio, con cui tutti gli appassionati e i professionisti seguono dalla costruzione del castello all'evento. Il web è fenomenale in questo caso, nel senso che partendo proprio dalla costruzione noi comunichiamo, quindi in quel caso l'utente ha un messaggio unidirezionale, dal brand all'utente. Il bello viene quando arrivano questi 15 atleti, nel senso che lì tutto si stravolge. Questi arrivano, postano le loro foto su Instagram, piuttosto che su Facebook, piuttosto che su Twitter, e lì è l'atleta stesso che dice sono Livigno, è una figata, ho visto lo snowpark, fa paura, e lì il messaggio cambia, perché cambia radicalmente. Un conto è se lo dice Mottolino e si dice venite a vedere il Nine Nights perché è bellissimo, è quasi scontato. Un conto se un Tanner Hall o un Tom Wollich dice sono Livigno, venite al Mottolino a vedere il Nine Nights, l'utente è mosso da una leva un pochino più grossa. Quindi questo mi viene da dire che anche gli atleti stessi giocano una parte veramente importante nella fase di comunicazione. Tutto il resto poi, che siano i brand o che sia l'organizzazione stessa, sul web è veramente forte. Basti pensare agli otto video che sono stati realizzati lo scorso anno, che all'inizio dell'estate, a fine dell'estate, scusa, avevano totalizzato più di due milioni di visualizzazioni, tutti gli otto video insieme. Due milioni di visualizzazioni è tanta roba, è veramente tanto, quindi il web ha un'importanza strategica non indifferente. Un potenziale per la località non indifferente? Assolutamente sì, questo è un, come diceva Thomas, parte come un evento di nicchia o comunque un potenziale che va a raggiungere solo certi target, ma che poi si allarga a macchia d'olio e diffonde sempre di più. Eravamo all'ISPO e all'ISPO, proprio ISPO, ha scelto uno dei video del Nine Nights per dare un po' di spettacolo, un po' di folklore a quello che erano i monitor in tutta ISPO. E lì si vedeva benissimo il logo di Livigno, il logo voluto, dal quale anche noi supportiamo quello che fa Mottolino, supportiamo quello che fa la società Nine Nights per questo evento. Quindi avere in tutto il mondo, in tutto il mondo della neve o comunque in tutto il mondo di giovani questo video che gira con il logo Livigno penso che sia più che ripagato quello che è il nostro contributo. Livigno è un brand oggi? È un brand forte e riconosciuto? Livigno non è ancora un brand forte e riconosciuto, non è ancora, è un brand ma non è ancora tecchito in quale, in alcuni target, in alcuni mondi parlando di target turistici. Questo aiuta, questi eventi, queste uscite, questa divulgazione attraverso internet, eccetera, aiuta a dare un'identità un po' più forte di quello che, di dove si vuole andare e come si vuole arrivare. Loè Mottolino, molto forte nella comunicazione nel marketing, ha sempre puntato su questi eventi molto particolari, unici. A chi si ispira? A quale, diciamo, località top si ispira la società per individuare questi segmenti? Come trova, insomma, anche questi canali così, insomma, sempre vincenti? Abbiamo visto quest'anno, avete ricevuto numerosi premi in vari ambiti, proprio per le attività che mettete in campo, sempre mirate. Beh, non è che ci sia, diciamo, non è che ci ispiriamo a una località, a un contesto specifico. O un evento. Anche, o a un evento specifico. No, credo che abbiamo puntato molto, abbiamo lavorato molto su una nostra, diciamo, filosofia di lavoro, sul nostro brand, su una nostra identità specifica. Questo lo abbiamo fatto certamente. Chiaro, è importante che questa, diciamo, strategia venga poi condivisa anche a livello di località, perché Mottolino da sola certamente avrà una sua forza, una sua credibilità. Ce l'ha sicuramente il brand oggi affermato al punto tale che per i giovani, per il mondo, diciamo, dello snowboard, del freestyle, è certamente una realtà conosciuta, un marchio di qualità, un certificato di qualità da questo punto di vista. Non vogliamo essere soli, chiaramente, in questa battaglia, in questo percorso, diciamo, di qualificazione della località. Speriamo, ma credo che la strada che sta prendendo in questo momento APT è una strada giusta. Il supporto a questi eventi è per noi fondamentale, fondamentale, anzi direi assolutamente importante, perché senza APT o senza la consapevolezza che anche Livigno crede a questi progetti, per noi sarebbe quasi inutile farli. Certo, noi abbiamo avuto una strada, diciamo, tracciata anni fa, quando abbiamo rivisto, studiato questo nuovo brand di Mottolino e da lì abbiamo sempre fatto coerentemente con quello che era un po' la strategia. Abbiamo sempre fatto eventi che andavano in quella direzione, dai concerti in quota prima a tutte le attività legate comunque al mondo dei giovani, al mondo di... ecco, sicuramente è importante per noi vedere conosciuto in qualche modo, come dici tu, il nostro brand e darci, diciamo, questi certificati di qualità che ci vengono attestati ogni tanto a qualche manifestazione, a qualche evento, alla fiera di Modena in particolar modo. Però è importante, soprattutto, che si parli di Livigno. in queste telecroniche che ci sono state in questi giorni alle Olimpiadi, chi ha sentito, chi ha avuto modo di sentire, non si è mai parlato di Mottolino, ma va benissimo, va benissimo che non si parli di Mottolino, allora quando si continua a citare Livigno come la località che fa queste attività e che crede in queste attività. Quando poi la gente viene a Livigno, poi andrà dove crede, e dove ritiene più opportuno. Lo sforzo da parte nostra, non ti nego che tante volte, è anche troppo rispetto al ritorno che abbiamo direttamente, ossia i grossi investimenti che facciamo, le grosse scelte che facciamo sugli eventi, spesso e volentieri, non ci danno in termini di mercato interno un risultato così concreto, così, questo è innegabile, insomma lo dicono i numeri, però sono convinto che... Fanno bene alla località. Fanno bene alla località. Sono stato recentemente in una località francese a visitare questo resort, ahimè, si conosceva alla richiesta esplicita del direttore di stazione di cosa conoscesse della nostra località, e lui ha fatto chiaramente riferimento solo agli eventi che conosceva, quindi Night Nights e i vari eventi che sono stati fatti in questi anni, quindi vuol dire che sdoganiamo il nome Livigno anche grazie a questi eventi, ma questo è il senso di un evento, di un grosso evento. La gara di Coppa del Mondo di Bormio serve certamente a rendere noto al pubblico mondiale che Bormio è località turistica invernale, potendo certo che sarebbe bello fare qualche evento grosso, ma non è detta che siano solo i grossi eventi che portano questi risultati, quanto anche questi piccoli eventi, che poi piccolissimi non sono, però che certamente hanno, diciamo, dei risultati in termini di comunicazione molto, molto importanti. Thomas, vogliamo dare qualche numero in più rispetto ai dati dell'edizione precedente, perché sono sempre numeri dove, insomma, cospicui, consistenti, si parla di tutta una serie di visualizzazioni, eccetera, a cui fa riferimento naturalmente l'azienda e il Livigno, ma anche e soprattutto poi gli sponsor, perché avete grossi partner. Ma diciamo che i grandi numeri derivano proprio dall'unione di tutta questa entourage. Mi viene da citare il colosso di Red Bull, perché tra tutti è quella che ancora una volta la fa da padrone, nel senso che nei due eventi invernali più quello estivo che abbiamo avuto dal Nine Nights, il video finale conclusivo con gli highlight è stato per una settimana sull'home page mondiale di Red Bull. L'home page mondiale di Red Bull, non so esattamente quante visualizzazioni possa contare, so per certo che la pagina Facebook di Red Bull ha 36 milioni di utenti. Qui è detto tutto, quindi parlando solo di Red Bull. Se mettiamo insieme tutti gli altri, mi viene da dire GoPro, piuttosto che i canali di comunicazione di Mottolino, piuttosto che quelli di Livigno, di Smith, che è un altro sponsor, piuttosto che tutti gli altri sponsor, messi insieme veramente totalizzano numeri, come ho detto prima. Sono stati realizzati otto video nell'ultimo Nine Nights invernale e sono state superate i due milioni di visualizzazioni, 450 mila solo con un video, quindi questo per far capire l'entità. ad aggiungersi agli sponsor e ai partner, ripeto ancora una volta, ci sono gli atleti, ci sono atleti magari poco conosciuti in Italia, molto conosciuti dal settore anche in Italia, che comunque hanno un grandissimo seguito. Gus Kenworthy, che è venuto al Nine Nights il primo anno e che è arrivato l'altro giorno secondo le Olimpiadi, ha 70 mila fan, 70 mila fan in qualche modo, quando lui sarà, anticipiamo, speriamo, quest'anno... Sono delle star. Sono delle star. Quando dirà sono al Mottolino, a Livigno, per il Nine Nights, ci sono ulteriori 70 mila persone che vengono a contatto con questa realtà, quindi è veramente tutto un insieme di contatti che vanno tutti nello stesso senso. Ricordo alcuni commenti quest'estate di alcuni ospiti della località che dicevano che siamo stati costretti a venire a Livigno perché i nostri figli vengono per assistere all'evento, per poter provare quantomeno avvicinarsi alla struttura. Assolutamente è partita in modo molto piccolo e solo mediatico. Adesso ci rendiamo conto che la richiesta, ma ed è bellissimo rendersi conto in maniera positiva, che la richiesta è quella di venire in quella settimana per vedere, avvicinarsi, riuscire a capire se veramente quello che vedono in foto esiste o è un Photoshop o un fotomontaggio. E questo ce ne siamo resi conto nelle ultime due edizioni, soprattutto nell'edizione estiva quando lì a Tre Palle al Passo d'Era c'erano 2000 spettatori, quelli erano venuti solo perché non credevano che si potessero fare certi tipi di salti. Quindi partendo da un evento mediatico stiamo arrivando a un evento non di partecipazione dell'evento stesso, quindi non sono gli atleti ma del pubblico. E questo è un po' il risultato e quello che ci conferma che la direzione è quella giusta perché altrimenti se non avessimo avuto queste richieste forse avremmo dovuto farci tutti delle domande. Certo. Possiamo svelare qualcosa sulla struttura di quest'anno? Come sarà questo castello? Quali sono le novità? Perché sappiamo che lavorano per mesi e mesi proprio anche allo studio, della progettazione di queste strutture affinché siano più affascinanti. Il bello dell'evento è anche quello, nel senso che l'evento non prevede un castello, il castello è quello. Il castello tutti gli anni cambia, tutti gli anni diventa sempre più, non tanto più grosso per forza, quanto più attrattivo, più tecnico, proprio per i fotografi e per i videomaker che saranno poi qui. Giusto per fare una piccola introduzione, al progetto del castello lavorano oltre 25 persone del team di Nico, che è poi questo testimonial. Queste 25 persone arrivano ad una soluzione più che altro strategica a livello di cosa vuole il media, cosa vuole la rivista, cosa vuole il settore in questo momento. Da lì poi passano il progetto a questi esperti di costruzione snow park austriaci che mettono poi in nero su bianco quello che richiedono questi strateghi. terza fase, vengono da noi, lo propongono, ci confrontiamo e da lì ne esce il castello. Siamo partiti il primo anno con questi salti grandissimi, l'anno scorso abbiamo introdotto questo halfpipe orizzontale, sembra che quest'anno l'halfpipe venga riproposto grazie anche alla conferma di quello che è al momento il detentore del titolo degli X Games che farà le Olimpiadi in halfpipe tra pochi giorni. L'halfpipe sembra che sia confermato, non più in maniera orizzontale ma in maniera verticale, più un'altra sorpresa che stiamo cercando di finalizzare. Non è che l'elicottero passerà dentro la struttura, che ci sarà qualche perché? L'elicottero ci sarà, non passerà dentro la struttura, però ci sarà in maniera un pochino diversa, quello sì. Quello sì. Bene, due dati invece sugli ospiti, si sa già chi potrebbe, o attendete proprio... Io ho chiesto, ho avuto pochi giorni fa da Nico, la lista... La top list. Ahimè provvisoria, nel senso che trattare con questa gente, con questi VIP, anche per lui veramente, tutte le volte che gli chiedo la lista mi dice sai già come funziona, nel senso che veramente questi sono dei VIP. All'ultimo possono decidere... E se la tirano un po'. Siamo felicissimi ad oggi di sapere che in passato, sui 30 atleti che sono stati alle Olimpiadi, che sono alle Olimpiadi adesso a Sochi, più di 10 sono stati al Nine Nights in passato, quindi questo per noi è il motivo più grande di orgoglio. Ad oggi abbiamo una lista di una ventina di atleti, appunto, di confermato, ripeto, sempre mettendo le mani avanti sul fattore VIP, abbiamo Gas Can Worty, che appunto è arrivato secondo l'altro giorno nello Slopestyle, abbiamo David Wise, che è quello che i pronostici danno per vincitore nella categoria Alphipe, e Nico non ci ha negato che è in contatto col vincitore dello Slopestyle, questo americano che ha vinto lo Slopestyle a Sochi. Questi sono i tre nomi un pochino più grossi, rimangono poi confermati tutti quelli che sono venuti gli altri anni, anche perché veramente loro ci sono trovati veramente bene, quindi ci tengono a partecipare proprio loro stessi. Certo, per chi non lo sapesse è un evento la cui partecipazione è riservata ai maschi, perché dovrebbero essere un po' svitati, quindi le donne usando il fanno, è così? No, non è proprio così, nel senso che è così a Livigno, perché l'evento è rivolto ai maschi, le donne però hanno un loro evento che si chiama Night Queens, il castelletto, il castelletto che doveva essere, questa è notizia anche di questa mattina, doveva essere come gli ultimi tre anni a Surf House, sembra che probabilmente salterà perché non hanno condizioni in nevamento tali da poter preparare le strutture. Chissà che non vogliono aggiungere una strutturina a Livigno per fare... Probabilmente loro vorrebbero anche, non tutto però si può fare, soprattutto è anche vero che c'è troppa differenza purtroppo tra lo show delle donne e degli uomini, le donne non potrebbero saltare probabilmente sulle strutture dei maschi, quindi potrebbe essere un problema anche dal punto di vista organizzativo, potrebbe essere, però insomma questo è anche un'altra conferma, che Livigno è sempre presente e quando c'è c'è con le condizioni ottimali, perché quest'anno sicuramente le condizioni di nevamento sono eccezionali, però non è, non si fa diciamo il castello con neve naturale, non si potrebbe, non sarebbero le condizioni. Peccato che come i trampolini dei grandi giochi, queste strutture non possono essere utilizzate poi dall'utente medio, nel senso che è peccato anche che poi è il tempo a determinarne la vita, perché insomma poi si sciolgono, no? È un peccato da un certo punto di vista, è una fortuna dall'altro, perché questo ci permette di essere sempre innovativi o comunque sempre ricercati, o la gente aspetta cosa ci sarà di nuovo, come la domanda che hai fatto tu prima, come sarà il nuovo castello, quindi questo è fonte di altro materiale da poter dare ai media. D'altra parte le vigne non mantenete neppure quelli di legno, per cui rifacciamo anche quelli, ma apposta proprio per dare un po' di aspettativa, creare un po' di aspettativa. battuti a parte, questo evento crea proprio quella differenza, quella curiosità che anche settimana scorsa, mentre ero dal sottosegretario all'Expo, a parlare, a cercare di trovare un percorso da poterci anche noi inserire all'interno di Expo, visto che la provincia, la Valtellina e l'Alta Valtellina sono abbastanza ferme o si muoveranno più avanti, anche con Fabrizio Sala, mentre chiacchieravamo, si diceva potreste portare la neve e fare un castello? È stata una battuta, ma è stata una battuta colta da 3 o 4 persone e tutti hanno identificato Livigno come ecco il castello, comunque il freeride, il freestyle e tra l'altro c'era anche sul tavolo il progetto freeride, stavamo discutendo di quello, quindi la nostra identità la stiamo pian piano, anche se qualcuno pensa sempre che ci mettiamo troppo, però pian piano la stiamo prendendo e stiamo così declinando tutti i nostri attrattori verso quella direzione che è quella di un Livigno giovane, di un Livigno comunque attiva, molto dinamica e dove uno viene e fa la vacanza e non si può per forza annoiare. Presidenti, sempre cool? No, ho cambiato, ci tengo al cool e proprio sempre alla BIT e in Expo ho incontrato una rappresentante di Expo che è madrelingua inglese e ho detto cool e lei mi ha detto bravissimo, questo identifica bene quello che noi italiani non riusciamo a dire, però è sbagliato, mi hanno detto di dire piacevole, molto piacevole, quindi dirò una Livigno piacevole o comunque attiva perché è giusto che sia così. Bene, bene. E a proposito di Livigno attiva, il Nine Hights verrà riproposto anche per stagione estiva? Assolutamente sì, sarà dal 16 al 21 di giugno, abbiamo anticipato completamente rispetto all'anno passato, questo per riuscire anche noi a comunicare l'estate anzitempo, ma riuscire a dare veramente un market maggiore, un mark maggiore, uno stamp di quello che è Livigno e che vuole essere Livigno durante il periodo estivo. Quindi bike, bike non a tutto tondo, bike, mountain bike, free ride, freestyle e quello che è il mountain bike ma come momento non di, proprio di divertimento, non di endurance o di fatica, quello abbiamo già una palestra a cielo aperto che è Livigno. Quindi 30 marzo, 4 aprile giustamente per questo appuntamento con un programma molto fitto? Sì, il programma è quello settimanale, variabile in funzione del tempo perché il tempo come al solito condiziona molto. Invito tutti Livignaschi in particolar modo a tenere, a fissarsi in agenda, a bloccare l'agenda il mercoledì sera perché è un evento eccezionale, questo l'abbiamo potenziato e rafforzato rispetto agli ultimi due anni perché si è resi conto che quello è veramente una cosa spettacolare. Quest'anno peraltro è prevista una bella sorpresa in termini di illuminazione, in termini di giochi di illuminazione perché ci sarà qualcosa di spettacolare, quindi questa è una bella occasione, terremo aperto l'impianto a salire e poi anche i servizi a monte perché sarà una bella occasione. Mi permetto, se me lo concedi, di fare una precisazione sull'aspetto, su quello che diceva prima Luca, perché su questo ci siamo confrontati più volte e non sempre magari si arriva a capire esattamente, a far capire all'esterno quello che si vorrebbe trasferire. avere una località giovane, avere una comunicazione basata sugli eventi, su queste attività molto dinamiche, sul freestyle, sullo snowboard, non vuole dire necessariamente richiamare un target di snowboarder, di freestyle o di ragazzini 15 anni perché questo è fondamentale perché altrimenti agli operatori passa il concetto che questa è la direzione che vogliamo prendere noi e che tutto deve gravitare attorno al mondo dei giovani. Non è così. Questo è il motivo forte per cui si può comunicare qualcosa che gli altri non hanno. Il super scidolo miti che abbiamo avuto modo di ospitare due settimane fa, quindi uno staff di questa grossa realtà italiana, ce l'ha fatto capire chiaramente. Loro sono venuti ma perché hanno visto il Livigno, quella località, per cui loro fanno fatica a spiegarsi come mai possa essere così giovane, così dinamica. Come mai? Io ho saputo addirittura che uno dei figli di un proprietario di una stazione altoatesina prende l'appartamento a Livigno per tutta la stagione e viene sabato o domenica e si trasferisce per girare in parco. Questo è fenomenale perché per noi è un obiettivo andare a farci un giro nel super scidolo miti e visitare... Hanno altre cose da cui possiamo prendere ispirazione, altri servizi forniscono. Molto però evidentemente, ma questo solo per spiegare che non bisogna concepire in maniera estrema o drastica il fatto di una comunicazione. Questo è il pretesto per comunicare qualcosa di diverso. Se riusciamo a comunicare qualcosa di diverso poi la gente ci arriva e ci arriverà il sessantenne che ha lo spirito per il giovane, che ha la voglia di andare a divertirsi, che ha la voglia di andare in un locale. Comunque le famiglie che devono accompagnare i figli perché loro vogliono divertirsi. Comunque le famiglie dei genitori sono gente sportiva dinamica. Come noi. L'altro giorno, per rimarcare quello che dice Marco, il direttore di oggi alla quale ho sottoposto il piano di comunicazione di Livigno e dove ho dato quelli che erano i target dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare e cosa offriamo, a un certo punto lui sessantotenne dice adesso che ho iniziato a venire in bici allora verrò a Livigno, ho iniziato ad andare in bici allora verrò a Livigno. Io ho detto ma non la bici da strada? No, no, faccio mountain bike. Quindi lì lui ha capito benissimo dove vogliamo mirare, dove vogliamo andare. Quindi assolutamente la precisazione di Marco è vera ed è giusta. Non è che vogliamo escludere nessuno ma con questo vogliamo comunicare, declinare quelle che sono le nostre attività e che sono il nostro patrimonio in quel modo. Bene, io ringrazio Luca Moretti, presidente di APT Livigno. Grazie a voi. Marco Rocca, di Motolino S.P.A. Grazie, grazie a voi, buona serata. Thomas Confortola, dell'ufficio marketing di Motolino. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. E naturalmente voi da casa che ci avete seguito. Appuntamento 30 marzo 2014. Nine Nights. Arrivederci. Grazie a voi.